Purtroppo mi dure a constatare che il mio comune tramo da modello di gestione della prima fase ho già un indice di contagio dell'8% e questo è il dato, è un dato che ci impone una scelta una scelta drastica quella di ridurre l'assembramento fisico compreso la fiera settimanale e quindi il mercato. Non si può mediare tra la vita e la morte, non si può mediare sulla pubblica salute quindi in questa fase misure restrittive quasi da zona rossa per tutelare la salute delle persone e la prima fase, seconda fase in bilancio proveremo come abbiamo fatto per le attività commerciali un ristoro ad impegno di risorse comunali anche per le attività mercatali quindi per gli ambulanti ma oggi non si può mediare sulla salute pubblica l'unico obiettivo è tutelare la vita delle persone una volta portata e salvaguardata la vita poi si pensa ai ristori e al fatto commerciale in sé per sé Grazie! 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 Grazie!